Ci troviamo ormai in una fase abbastanza avanzata dello sviluppo dello smart meter in gas e possiamo dire che il numero dei contatori già installati in campo ha aggiunto certamente dei numeri interessanti. In parallelo allo smart meter in gas ci troviamo di fronte alla problematica che emerge dall'installazione dei contatori elettrici di seconda generazione dove il regolatore ha previsto l'utilizzo della stessa banda a 169 MHz utilizzata per la telelettura del gas anche per l'elettrico seppur con funzione di rincalzo. Nell'ambito dei lavori per lo sviluppo delle relative norme un specifico mandato è stato dato al Comitato Elettrotetico Internazionale e in particolare il Comitato Elettrotetico Italiano per lo sviluppo di una specifica norma per la comunicazione tra i contatori elettrici di seconda generazione e il display utente, il terminale utente quindi con lo scopo fondamentale di rendere l'utente finale consapevole dei propri utilizzi energetici. Il CIG ancora una volta si è fatto parte attiva di questo processo ed il tavolo di elezione che è stato trovato è quello del tavolo di coordinamento Unicei, all'Uni esiste proprio una commissione mista tra Unicei ed è stato fondato un gruppo di lavoro specifico già sullo smart metering ecco a questo tavolo è stato affidato il lavoro per trovare una condivisione nell'utilizzo della banda e alla fine produrre una norma specifica che consenta appunto l'utilizzo di questa banda da parte dei diversi servizi di pubblica utilità in una maniera appunto condivisa.